L'ho appena finita ad allestire, proprio... no, qui dietro è l'angolo del fumetto top del mese Parliamo del fumetto di gennaio, il mio preferito di gennaio è stata la storia di Ambrosini Ma voglio dire, poco ci voleva, era bellissima Parliamo sempre di D-Landog, ma questa volta un D-Landog a colori Bentornati cari dettori, come state? Spero tutto bene, io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita Qui parliamo di fumetti e di cose nerd Ed oggi parliamo del D-Landog colorato, il Colorfest, che è arrivato al numero 48 Sono tanti eh, il 50 lo faranno in bianco e nero hanno detto, no scherzo Che battuta pessima, venite più vicino a Roma che forse è meglio Forse è meglio Però ci starebbe Ovviamente a meno prezzo eh, ovviamente scalateci i soldi Però ci starebbe che il 50 lo fanno in bianco e nero proprio per... No, io direi che il 50 lo devono fare Come il Texalla francese Eh? Allo stesso prezzo Ovviamente No, vabbè, anche a 9,90 Io lo prenderei un Colorfest a 9,90 come il Texalla francese Ma Di 90 pagine, perché di meno Poi la storia non riesce a carburare Ma veniamo a noi, perché sennò ci facciamo 12 minuti Soltanto di questi convenevoli Ho letto ieri il nuovo Colorfest Il risveglio 5, no, 6,90 per il Colorfest Vabbè, ancora 6,90 Abbiamo saputo proprio ieri Che ci sarà un aumento Ma soltanto del, soltanto fra virgolette Del Dinando Gold Boy Che passerà a 8,90 dal prossimo numero Non da quello di febbraio Ma da quello di aprile Quindi Da quello che avrà al suo interno la storia Abbiamo aperto con Ambrosini Adesso diciamo ancora L'ultima storia di Ambrosini Fatta e finita Completamente da lui Subirà un aumento di 1 euro E invece il prossimo Colorfest Sempre a 6,90 Il 49 Ci saranno Di Gregorio e Tanzillo E la cover l'abbiamo scoperta in anteprima Proprio qualche giorno fa Però postate sia su Instagram Che qui su YouTube Bellissima cover Sembra proprio un rifacimento Di Jack the Ripper Di Jack lo Squartarore L'8 maggio In edicola Ma veniamo al risveglio Una storia che già dalla copertina Pare una bella storia Molto particolare Molto bello Sto Colorfest Lo devo dire all'inizio Vi svelo che a me è piaciuto particolarmente La Baraldi Ci accoglie Dicendo qualcosina Su quello che andremo a leggere Del perché Andremo a leggere Quelle cose Io ho trovato Ovviamente Particolarmente Azzeccato Il redazione della Baraldi La storia Soggetto e sceneggiatura Del duo Rita Porretto Silvia Mericone I disegni di Francesco Ripoli La colorazione Che ve lo anticipo Questa volta La fa da padrona Di Sergio Algozzino Ragazzi La colorazione Di questo Colorfest È a dir poco Eccellente Sergio fa Un lavoro Certosino Un lavoro di fino Si mette Completamente A disposizione Della storia Del disegno Ma soprattutto Della sua capacità Interpretativa Che è fuori dal comune E Ragazzi Fa Un Lavorone Fa veramente Un Lavorone Abbiamo Ovviamente Le copertine Dei Dylan Don Della serie regolare La misura del mondo Che vi consiglio Di recuperare Se avete qualche dubbio Andate a vedere Il video che ho fatto In proposito E il prossimo Quello A fine di questo mese Il 28 febbraio Shock Che sembra Molto Molto Bludi Molto Bludi Oggi sto Americano Non so perché Molto Sanguinolento Allora Il risveglio Il risveglio L'ho letto Ieri L'ho Divorato È Dannatamente No Troppo Troppo Zoomato È Dannatamente Interessante Come storia Di che cosa Parliamo Dylan Dog Si ritrova In Un'isola Semideserta Nel senso Non è deserta Perché c'è una piccola comunità Ma che Difficilmente Colloquia con Il mondo Lui si ritrova In questo stato Solitamente lo ritroviamo Con la macchina In una foresta Invece in questo caso Lo ritroviamo Disperso Sulla costa Di quest'isola Delle Ci sono Sapete Ci sono tutte Queste isolette Microscopiche Nell'alta Scozia Inglese No Io non lo so Me l'immagino Perché tutti quanti Così Le dipingono In una comunità Va con La Sua Fidanzata Del momento Che lì ha una casa E che deve finire Di scrivere un saggio Lei è una psicologa Deve finire Di scrivere un saggio Ne succederanno Di tutti I colori Soprattutto i colori Più tetri I colori Dell'incubo E Dylan Dog Dovrà Dipanare La matassa Di una storia Decisamente Intricata Che Porterà Più volte A Chiederci Se Stiamo leggendo La storia giusta O Se stiamo leggendo Nel modo giusto Quello che ci dice La storia Senza spoiler Senza alcuno spoiler I disegni I disegni di Ripoli Sono Estremamente Adatti Ad una cosa del genere Perché Ripoli Riesce Ve lo faccio vedere Riesce A descrivere Perfettamente Con questi Con questi segni Di china Di nero Sui volti Su Le ombre Rendendole Molto Molto più Tra Guardate Le occhiaie Di Dylan Dog Tutti quanti Questi segni Neri Quelli là Non sono dovuti Alla colorazione Ma sono proprio Di Ripoli E Sono Decisamente Adatti Questo segno Così marcato Così duro È Decisamente Adatto A Tutta quanta La storia Ma Ma E qui va detto Quello che vi ho detto prima I colori di Algozzino Sono qualcosa Quel qualcosa Che rende ancora più Poetico Ancora più interessante Ancora più immersivo Leggere questa storia L'ho letteralmente Divorata Letteralmente Divorata E poi Me la sono Non riletta Ma l'ho Rispaginata Anche se Ce l'avevo in digitale Rol rispaginata Così Perché Perché innanzitutto Non so se è stata Un'idea appunto Del colorista O del disegnatore O addirittura Delle due Sceneggiatrici Il momento presente È un momento Colorato In questo modo In modo netto In modo solido Non so come definirlo Invece Il Momento del flashback Del ricordo È un disegno Sporco Sporcato Da tutte quante queste ombre Poi capiremo il perché Capiremo poi il perché Sembra quasi a pastello a cero Oppure sembra quasi Sporcato proprio con la punta Della matita Con la grafite stessa Della matita È Un Escamotage Che ti fa immergere Ancora di più In quella che è La storia Che cosa ci vogliono dire La Porretto E l'americone Di preciso ragazzi Non lo so Ma è un racconto che parla Di solitudine È un racconto che parla Di isole Che ci vede un po' Vede un po' l'animo umano Appunto come un'isola E come un'isola È isolato Da tutto quanto il resto Si possono costruire dei ponti Ma non è detto Che quei ponti Possano Possano resistere Possano Essere anche utili Che possano Veramente essere fatti In certi In certi casi E Tutta la storia Si basa appunto Su Questo Sul sottolineare Come l'animo umano Sia destinato Ad essere solo A non essere compreso A Vivere costantemente Costantemente Nella Nel suo Bozzolo No Non ci sarà Mai Nessuno Che potrà Comprenderci Appieno Che potrà Accettarci Appieno È molto Molto Triste Come cosa Non so quanto Condivisibile Ma il racconto Ci dice Appunto Questo All'interno di tutto Quanto il racconto Ovviamente Ci verrà spiegato Attraverso Le metafore Metafore dell'incubo Dei mostri Le metafore Di Di Dilan Che racconta Questa Incredibile Ennesima Avventura In quello Che potrebbe essere A tutti gli effetti E che sembra All'inizio A tutti gli effetti Una storia D'amore Una storia Di sentimento Una storia Che Nonostante tutto Avrà il suo lieto fine Ma E qua mi fermo Altrimenti Vi faccio Spoiler Quello Quello Che vi voglio Caldamente consigliare È di andare A prendere Sto numero Che sto numero È un bel numero E fa specie Che Due Sceneggiatrici Che lavorano Sempre insieme Parlino Di solitudine Parlino Di isole Parlino Di Incomunicabilità È strano La Porretto E l'americone Su Dilan Per quelle che Lo conosco io Perché le conosco Su Dilan Fanno Sempre Sto insieme Io Non credo Di averne mai letta Una singola E quindi È particolare Come due persone Che riescono A costruire Storie di questo tipo Anche Altre storie Mi sono molto Mi sono molto Piaciute E mi sono state care A tutti gli effetti È particolare Di come abbiano Partorito Abbiano concepito Un soggetto Una sceneggiatura Di questo tipo E quindi Di come Abbiano avuto Questo tipo Di sensibilità Strano Stravagante Però Piacevole Però Alla fine Piacevole Ora Ce ne andiamo Ce ne andiamo Nella parte Ce ne andiamo Nella parte spoiler Perché volevo Parare con voi Di un aspetto Di questo numero Che non è Né Un aspetto Non volevo Parlare questa volta Di un personaggio Della storia Eccetera Volevo parlare Della colorazione Perché io L'ho trovata Eccezionale Faccio vedere Una tavola Questa qui In cui C'è Dylan Con tutte queste ombre In cui c'è un Dylan Particolarissimo E in cui Ci sono Dei particolari Poi No c'è stato Prima Nella tavola Prima Che difficilmente Si colgono Al volo Ma che saranno Essenziali Per lo sviluppo Della trama Particolarissimi Ma Guardate com'è Ben disegnata Sembra veramente Una di quelle storie Che meritano Un cartonato Meritano Un ampio formato Un disegno Brillante Io Vedendole poi Sull'e-pad Figuratevi voi Quanto le vedo Interessanti Adesso vi faccio vedere Un'altra Un'altra tavola Stiamo ancora All'inizio della storia Qui Vi faccio vedere Una tavola Che sta verso la fine Se me la ricordo Se la ritrovo Questa qua Allora qui c'è La bravura Del disegnatore Che ha generato Una 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 vignetta Potente Potente Ma anche appunto Del colorista Che è riuscito A colorarla In modo eccellente Quello che mi piacerebbe Sapere E magari se c'è Sergio che guarda Oppure Direttamente Ripoli Che guarda il video Mi piacerebbe Sapere proprio Se Sti grigi Sta matita Sporca L'ha messa Il disegnatore O il colorista Perché Dà veramente Tantissimo A quello che è la storia Dà Veramente Tanto 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 A posteriore Quando tu Lo Capisci Arrivi alla fine Della storia Ti rendi conto Del significato Di tante cose Che sono accadute Di tante cose Che hai visto E che nulla Era messo lì Per caso O per semplicemente Mentre perché era Bello Da mostrare In quel modo Era appariscente Diciamo no Funzionale Alla storia stessa Detto questo Ragazzi Che altro dirvi Un Colorfest Che Lo ripeto È diventato E Diciamolo Lo è da sempre La lettura Ma vi faccio vedere Un'altra tavola Fermi fermi Vi faccio vedere Un'altra tavola Questa Spettacolo Un Colorfest Che è diventata Da lettura Di lineata Ma è da parecchio La lettura di lineata Che io preferisco E vi lascio Una domanda Se siete arrivati Fino qua Nel video Alla fine C'è anche questo Vi faccio vedere Un'altra cosa Scusa Sto a fare tappe Perché mi dimentico Alla fine Ci sono due tavole Dello sketchbook Adesso I più cattivi Diranno Hanno fatto una storia Con due tavole di meno I più intelligenti Diranno Scherzo Sono intelligenti I più buoni Diranno Che figata Abbiamo visto Questo bello sketchbook Che oltretutto È stato anche impaginato In modo particolare Anche lì Abbastanza Interessante Da qui Sembra appunto Che sta colorazione nera Ce l'ha messa Il disegnatore Però Io ho una domanda Che faccio Ma a parte quello Domanda Dylan Dog Sono 36 Questo è il 37 No Questo è il 36 Perché l'anno scorso Erano 35 anni Che Predilige Il bianconero Nelle sue storie Il bianconero Non è mai stato un limite Ma è stato un pregio Di Sto fumetto Ma ormai Da ben 48 Uscite E è sempre stato Trimestrare il Colorfest Quindi Un sacco di anni Il Colorfest Ci dimostra Come Dylan Dog A colori Abbia quel Passo in più Nonostante tutto Voi E questa è una domanda Che faccio a voi Preferite Lasciare tutto Come è adesso Oppure Anche alla luce Dell'aumento Dell'allboy Che ci sarà Preferireste Meno storie Meno uscite Ma curate Ma curate meglio Curate nel senso Col colore Magari anche In In brossuratone Bello grande Che abbiano più Respiro Anche in edicola In fumetteria Abbiano più Fra virgolette Dignità di esistere Che non si esauriscono Nello spazio Dei 30 giorni Della distribuzione Dell'edicole E Che non abbiano Neanche il tempo Di carburare Perché è vero Che siamo in una società Che a differenza Di Del prima di internet In tutte le case Del prima della fibra Dell'informazione veloce Eccetera Dell'intrattenimento Veloce e facilitato Era più lenta Ma è anche vero Che in una società Del genere Un contenuto Un'opera Ha più bisogno Di tempo Per essere conosciuta Per essere apprezzata Per diventare Magari Qualcosa in più E forse Questi 30 giorni Anche se il Colorfest Ha l'ambizione Di durare tre mesi Ma non li dura Tre mesi Non è così Sta lì in edicola Ma dopo tre giorni Già Non se lo ricorda Più nessuno Perché non c'è Nessun rimando Perché non c'è Nessun rinnovo Del messaggio A uscire del Colorfest E chi parla di marketing Sa di marketing Sa di quello che dico Quindi Quale delle due cose Scegliete? Rimanere Tutto com'è? Un casino di storie Che si esatriscono In tempi brevi E che non danno mai Un respiro Al personaggio O meno storie O meno storie Meno uscite Curate meglio E che però Diano più Respiro Al personaggio Io faccio un esempio I cartonati Che stanno uscendo Adesso In fumetteria Che Non perdono La loro freschezza Dopo cinque minuti Cosa che invece Fanno questi fumetti Qua da edicola E forse Adesso Lo sforzo Per produrre E poi vedere In trenta giorni Pum È diventato vecchio Eh È troppo Forse prima si poteva fa Ma adesso è troppo Una domanda Che vi faccio E che Vorrei Che Sviscerassimo qua sotto Nei commenti Ovviamente Mi interessa sapere anche Come avete trovato Il Colorfest Se l'avete preso Se lo prenderete Se Eh Non facciamo diventare Qui sotto Una cosa che È il sovrapprezzo Sull'All Boy Eh Ne parleremo Ne parleremo A tempo debito O ne abbiamo già parlato Non so quando uscirà Sto video Sinceramente Perché sono stati Un po' di Di casino In questi giorni Proprio nel mondo Del fumetto Ma Ne vorrei parlare Qua sotto nei commenti Proprio dell'ultima cosa Che vi ho chiesto Noi ci vediamo domani Per il solito Prossimo video Ciao belli Prossimo video